Ebbene, è tempo di confondere qualcun altro. Io sono Ruben e bentornati ad Airsoft Engineering Project. Oggi parliamo appunto di un argomento che potrebbe confondere, però non vi liberate di me e della mia passione per i calcoli. Oggi parliamo di una singola formula. Potrebbe sembrare molto distaccato come argomento dal mondo dell'airsoft, ma è quella che io reputo una delle formule più importanti non tanto per la scelta della preparazione che uno deve creare, ma per un controllo finale. Mi spiego meglio. Stiamo parlando della formula per l'efficienza. Con l'aiuto del nostro special guest, che forse alcuni di voi riconosceranno la famosa lavagnetta per le spiegazioni alle 2 di notte, con il riflesso della luce, andiamo a spiegare un attimo la formula dell'efficienza. Per ora è applicata soltanto per le AEG, ma devo... ora che mi viene in mente... Devo sentire un attimo i gruppi di gas blowback e HPA per vedere se riesco a capire come applicarla anche al loro mondo. Comunque, formula dell'efficienza. L'efficienza che cos'è? Ci va a spiegare quanto una replica è fatta bene. Potenza in uscita fratto potenza in entrata. L'efficienza è un rapporto senza dimensione tra ciò che entra e ciò che esce. O meglio, tra ciò che esce e ciò che entra. In tutte le piattaforme noi abbiamo ciò che esce, che è dato dalla energia cinetica, che sono i nostri joule. È un'energia, non chiamate la potenza. Ogni volta vi correggerò, prendetemi in giro perché sono molto serio su queste cose. Questa energia, joule, questa è potenza, watt. Non sbagliate, non fatelo mai più, in mia presenza mi arrabbio. Potenza in entrata, nel nostro caso è dato dalla batteria. I dati della batteria, che sono corrente in ampere, tensione in volt. Ovviamente sono dati che devono essere reali, ovvero la nostra energia, ovviamente utilizziamo un cronografo, prendiamo i joule effettivi. Nostro rateo, dobbiamo prendere i pallini che conta il nostro cronografo, non quelli che sentiamo, quelli che teoricamente dovrebbe fare. Corrente, l'assorbimento istantaneo nel punto che si fa la prova. Tensione, la tensione non è una cosa che noi decidiamo, è data dalla batteria, basta misurarla. Entrambi di queste si misurano con un amperometro e un voltmetro, oppure un multimetro o un tester. Ovviamente, state attenti, i tester e i multimetri spesso hanno un limite di 10 ampere, quindi sceglietene uno che possa sopportare assorbimenti anche più elevati. Andiamo ad esaminare ogni singolo punto. Energia cinetica lineare, un mezzo massa per velocità al quadrato. Cosa influisce la nostra energia di uscita? Jowl creep, quindi quando abbiamo un rapporto di volumi errato per il nostro sistema, andatevi a guardare il video dedicato che vi linko qua sopra. Ciclo di sparo errato, quindi i tempismi dell'asta, abbiamo perdite dell'aria nella nostra replica. Se non avete perdite di energia dovute a problemi di ciclo di sparo, problemi di perdite d'aria e jowl creep, avrete l'espressione massima della vostra energia. Essendo numeratore, se è un numero minore in alto, avremo un'efficienza più bassa. RPS, formula teorica di Hunter Seeker 5, non la sto a spiegare ora, però questa è una formula teorica. Per chi la conosce, perché l'ho sempre consigliata di utilizzare ovviamente con un valore della costante più realistico per le nostre energie, non è quello che dobbiamo vedere. Perché? Se noi utilizziamo questo valore che ci dà la formula, avremo un valore ideale che non corrisponde alla realtà. Se noi abbiamo problemi di ciclo di sparo o semplicemente se utilizziamo un caricatore che non ci porta i pallini abbastanza velocemente, o se l'asta è tagliata male e non arretra del tutto il pallino non passa, il gommino alle labbra che sporge nel hop up e il pallino non passa, sono pallini che perdiamo. Anche se voi vedete che la replica cicla a 30 pallini al secondo, se voi ne incamerate 22, ovviamente l'efficienza si abbassa. Ora passiamo alle cose un po' più interessanti, ovviamente vabbè, tensione vi ho detto non è calcolabile, si misura e basta, non la decidiamo noi, è quella della batteria, misuratela effettiva. Se avete un alimentatore potete guardare, impostarla voi, 12,6 per l'ipo 3 celle, 8,4 per l'ipo 2 celle. Se invece utilizzate una batteria lipo effettiva, controllate che la tensione al momento in cui sparate scende perché si consuma la batteria, come vi ho detto nel video dei test dei motori. Passiamo un attimo all'assorbimento in ampere, che è quello un po' più interessante. Ed eccoci, prima formula, questa qui è una formula che va a definire l'assorbimento dovuto al motore. Come abbiamo visto nel video dei rapporti di trasmissione, il motore è quello che crea la coppia e il rapporto degli ingranaggi è quello che è un moltiplicatore di coppia. Quindi più la coppia che gli viene richiesta è alta, dovuta a molla dura, massa in movimento, forze d'impatto, spessoramento errato e in generale configurazione sbagliata, moltiplicato ovviamente per la costante di coppia che è un dato intrinsico del motore, diverso per ogni singolo motore, avremo un assorbimento più alto. Quindi più coppia necessaria chiederà il nostro sistema al motore, più il motore chiederà ampere. Qua faccio una precisazione, potete usare qualsiasi batteria, ne potete utilizzare una grande un camion, il motore assorbe soltanto quello di cui ha bisogno. Comunque, questa coppia, la coppia totale, è la sommatoria di tutte le forze, o meglio, è la coppia necessaria per sconfiggere tutte queste forze, e queste forze sono uno spessoramento errato, come dicevo, quindi semplicemente la replica è stata spessorata male, una configurazione errata, anche le masse in gioco, ovviamente spostare un pistone che pesa 10 grammi o spostarne uno che pesa 20 grammi richiede diversa forza. In più, e questo qua molti non lo sanno e mi dà anche quasi fastidio ripeterlo continuamente, togliere denti quando non è necessario. Perché? Diciamo che le molle hanno una loro costante di hook, che va a definire la loro durezza newton per lunghezza. Prendiamo due molle che sono totalmente uguali ma cambiano la loro taratura. A memoria non so i valori. Quando l'ingranaggio ingaggerà il pistone dovrà, ovviamente, la forza d'impatto è data da massa per velocità, in questo caso velocità angolare perché sta girando, più la forza che deve sconfiggere, in questo caso questi newton. Se noi andiamo a togliere dei denti e passiamo ad una molla più dura, il guadagno che si ha in velocità di reattività e di rotazione, quindi il rateo, non va a giustificare l'aumento di stress che si ha sul motore, ovvero l'impatto. Questo impatto ovviamente porta a un assorbimento maggiore da parte del motore, ma anche a uno stress maggiore sul dente dell'ingranaggio. Quindi non togliete denti a caso. Ad un joule 25 pallini al secondo non bisogna togliere denti. Non fate un meno 4 su un 20 pallini al secondo come vedo di continuo. Non ha senso. Non ha senso. Se volete raggiungere rate più alti, fate configurazione dedicate a un rateo più alto. Devo fare una precisazione, mi son dimenticato di dirlo prima. Come ho detto che voi potete utilizzare la batteria più grande che volete, il motore assorbirà soltanto quello di cui necessita. La cosa non vale al contrario, ovvero, se utilizzate una batteria troppo piccola e non riesce a stare dietro gli ampere necessari, avremo una perdita di prestazioni. Perché la batteria ovviamente si surriscalderà come pochi, il riscaldamento è una trasformazione di energia che va a perdere, diminuisce l'efficienza anche perché è energia persa, ma soprattutto il motore, avendo problemi a ricevere questi ampere, lavorerà ad un'efficienza minore. Quindi anche quello lì è un fattore per quanto riguarda la batteria. Ora, appunto perché serve sapere l'efficienza cos'è, e serve comunque avere un metodo di paragone, perché io posso prendere un numero, un valore, me lo posso tatuare, però non vuol dire nulla a sé stante. Serve sempre un valore a cui paragonarsi. Essendo che noi lavoriamo ad un joule, siamo molto limitati con il range. Ovviamente a numeratore noi non possiamo mai avere più del valore del nostro rateo, quindi una replica con un rateo altissimo, o meglio superiore, avrà sempre efficienza superiore rispetto ad una con un rateo inferiore. Ovviamente, parità di rateo, parità di energia, una configurazione più sensata che assorbe meno ampere, avrà un'efficienza maggiore. Quindi, visto che dobbiamo fare dei paragoni, io mi sono andato a ricercare vecchie preparazioni che avevo fatto, e andiamo a vederle assieme. Energia, 0,97 Joule, 24 peini al secondo, assorbimento effettivo, una cifra significativa dopo il punto, tensione reale, non avevo ancora l'alimentatore, quindi questa qui è una lettura della tensione effettiva. Non utilizzate letture delle centraline, perché tutti hanno un errore. Per esempio, questo lo so perché sono stati pubblicati gli errori, la Titan 1, la prima visto che era uscita la seconda, ha un errore del 10% per quanto riguarda le Titan V2. Geftron non ne ho la minima idea, onestamente, né tanto per un, dovrei informarmi. Però comunque c'è un errore, quindi prendete sempre la misura con un multimetro, un tester, prendete un valore reale. Questo calcolo mi porta a un'efficienza del 11,88%. È molto bassa, perché non è una configurazione studiata per l'efficienza, era una configurazione studiata per la reattività a singolo. Si tratta di un 10A1 SitchTech con tutti i denti, alimentato con una tre celle, con un motore 18K a 28 TPA. Se non ricordo male, la reattività a singolo era circa dai 9 agli 11 ms, quindi molto molto reattiva, però con un ratio contenuto. Esempio numero 2. E abbiamo un 18.1 DSG con un 40K, alimentato con batteria a due celle. Energia 0,98 Joule. Ratio 40 peri al secondo. Assorbimento 17.2 A. Per 8,4 Volt. Questa efficienza mi porta a 27,13% di efficienza. È un'efficienza molto molto alta, perché è una configurazione sensata per raggiungere 40 panini al secondo. Ci sono altri modi, ovviamente, però sempre, personalmente, consiglio 30-35 panini al secondo passata DSG. Altra configurazione, l'estremo opposto della prima. La prima, il motore faceva tutto il lavoro, creava coppia, motore molto lento, rapporto bassissimo. Qui, direttamente opposto. È il 40K utilizzato nella seconda configurazione, però con un 32A1. Quindi, terza configurazione. 0,98 per 17 panini al secondo. Tensione 12,6, avevo l'alimentatore. Per un assorbimento di 7,3 A. Abbiamo un'efficienza del 18,11%. Perché non è tanto alta quanto una configurazione sensata? Perché non è sensata? Abbiamo un motore molto veloce che viene smorzato, per quanto riguarda il rateo, da un rapporto altissimo. In questo caso, per dei 32A1, è un 31,91A1. Quindi, anche lavorare soltanto di terna, i due estremi, lavorare solo di motore, lavorare solo di terna, non ha senso. Bisogna trovare un compromesso per raggiungere un certo rateo, certe prestazioni. Ora, questa configurazione, potevo non dirvela che l'ho fatta, ma l'ho fatta e me ne prendo la responsabilità. Configurazione numero 4. Era un 13A1 con 35K, che doveva essere alimentato a due celle, ma che lui voleva alimentare a tre celle. Quindi, 0,96 per 38 panini al secondo, fratto 12,42V, per un assorbimento di 21,3A. E abbiamo un'efficienza del, non è 96,97, 13,93%. Questi due ratei, 38 e 40, prendiamoli come identici. Cosa succede? Questo qui è due volte tanto, perché questa è una configurazione sensata, questa no. Ora, vediamo che per un Joule, per quelle che sono i miei test, che di sicuro, non dico di essere più bravo a preparare le repliche, di sicuro, gli assorbimenti potrebbero abbassarsi di molto, abbiamo un range che va da, il più basso, circa 11-12%, a un 27, magari anche il 28 si raggiunge, personalmente non ho provato ad un Joule, efficienze più alte. Però, vi dico qual è il record attualmente. Il record fatto attualmente, è stato fatto da uno dei ragazzi di Umbrella Harmony, che ha condiviso ovviamente i suoi dati, tempo fa, onestamente non mi ricordo nemmeno in che data. Era un 2,32 Joule, per 24 panini al secondo, con una batteria da 11,78V, e un assorbimento di 14,6A. Tutto ciò ci dà un'efficienza, che attualmente è il record, perché non ho visto nessuno batterla, né postare dati a riguardo, di 32,37%. Ricapitoliamo un attimo assieme tutte le efficienze. Qui lavora soltanto il motore, qui lavora soltanto la terna, non sono ideali. Queste qui sono la 2 e la 4, due configurazioni che sono simili, ma una configurazione errata mi porta ad un'efficienza più bassa, una configurazione corretta mi porta ad un'efficienza più alta. Ovviamente energie maggiori, e qui siamo limitati in Italia, ci porteranno sempre a un'efficienza maggiore. Ora, come dicevo all'inizio, vorrei provare a portare questa cosa nel mondo dell'HPA e del gas blowback, però ammetto la mia ignoranza a riguardo. Quindi proverò a contattare i vari gruppi su Telegram, contattare degli amici per farmi spiegare e darmi dei dati, per far valere una... Forse una formula posso convertirla per il mondo del gas. Nel caso, forse c'è lo spezzone ora dove la spiego. È passato circa un mese, un mesetto e qualcosa, e la formula è questa. Però non ve la spiego in questo video perché. Tecnicamente è fatta, finita, comprovata è tutto, però come tutte le formule bisogna che vengano testate e fare un outsourcing dei test. Questo perché non posso essere soltanto io a dire va bene, bisogna provare altre persone che non c'erano nulla per essere oggettivi nei test. La formula è ora in test da circa tre settimane circa. Appena riceverò dei test indietro con dei valori, li aggiungerò alla fine della spiegazione che ho già registrato. Per quanto riguarda la spiegazione, perché non la faccio in questo video? Perché letteralmente sarebbe diventato tre volte più lungo. È una formula molto molto più complicata e spiegare tutti gli step è molto complesso. Quindi farò un video dedicato che uscirà appena riceverò i feedback dei tester a cui ho mandato la formula. Detto questo, il video è finito. Vi ringrazio di averlo seguito. Se vi è interessato vi invito a mettere like e seguire il canale. Per i più voleterosi di voi vi invito a fare dei test, condividere le vostre configurazioni, i vostri valori di efficienza che avete trovato in modo che aiutate la community per capire quali sono i range massimi e minimi per certe energie oppure semplicemente capire qual è indicativamente un buon range di efficienza per una certa configurazione. Vi ringrazio ancora per la visualizzazione e ci vediamo alla prossima.